Buongiorno, io sono Willy Wonka, stelle del cielo, la terra vi saluta. Cinque fortunati di voi, comprando la mia cioccolata, potrà avere l'occasione di visitare la mia fabbrica. Basta comprare una tavoletta Wonka e cercare il vietto d'oro. Ah, e dimenticavo, provatevi un nuovo gusto, la tavoletta Wonka al cioccolato delizia Wonka al triplo super gusto. È una squisitezza!